Ciao a tutti, oggi in pratica si pulla per Blade che è uscito fuori un nuovo aggiornamento, ho già preso tutto la storia la farò off camera tutto, anche gli eventi farò tutto off camera piano piano e tanto oggi ci spendiamo tutto perché tanto voglio Blade e anche Kafta quindi facciamo tutto 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 e l'arma a me per adesso le armi non mi interessa, le prendo in futuro ah, faccio vedere anche cosa ho trovato anche in quelle argentati ho fatto piano piano potenziando i personaggi e potenziando i personaggi portarli alcuni a 80, a sbloccare, puttante varie ho trovato in pratica, prima del Pity in pratica, ho trovato a 75 ho trovato Brogna, fortissima, dunque ha potenziato perché il problema di questo gioco è il farming delle materiali e anche il farming dell'esperienza per portare i personaggi che è un grandissimo problema adesso non so se l'hanno aggiornato o del genere che ho visto a cosa in giro forse l'hanno migliorato, adesso non so se l'hanno migliorato o no adesso vediamo però ho trovato Brogna, top, che è uno dei support buffer più forti per adesso del gioco con gli altri però top top ho trovato a 75, tanta roba è quello e oggi andiamo a pullare ho fatto due multi per... perché me ne ho portato Pela, C6 e... e cosa ho trovato? Adesso non mi ricordo più ah, Wukong, che l'ho trovato per la pull, quindi per trovare Wukong ho fatto due pull appena, ho appena 20 di Pity e partiamo, abbiamo 133 Wish, diciamo il ticket, il warp e dopo ho 50%, se troviamo prima, meglio ancora e non mi tengo per cafta 30 di Pity ok, non ho niente 30 di Pity, ancora niente, basta un po' di bulme qua ok Viola abbiamo, uh, la memory, cosa cosa fa? Scusa incrementa la difesa, ok, per lei, ok riessenza a tutti, ok, cosa per... per lei, ok per Mars The Seven 40 di Pity 40 di Pity niente ancora, ok ok, qua la possiamo anche skippare ok, vediamo, uh, buona, una ce l'abbiamo, una su Sang una su Sang la prima C1, eh, sì, la prima C1 che ho ok, rigeneriamo i skill point, buona, cosa che lei ha sempre pochi skill point ok forte forte, ok ok 50 di Pity niente ancora, ok con la viola 50 di Pity ma io vorrei vincere il 50%, a meno fuori dal cazzo, però, quello il fake out non esistono, no, quello non esistono ok abbiamo quella di Asta arriva dentro di battaglia tutti gli altri fanno, uh, danno type è bellino, hai qualche, quattro, qualche arma muova armoni, ok qualche, qualche, diciamo, equipaggiamento muovi, così non è malaccio 60 di Pity con la viola adesso, adesso vado fino a, 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 a 80 a 90, al minimo, dai oh, oh, buono abbiamo, eh, Natasha è lui, che è, quando ho fatto l'evento, lo provo a Kino, è, è, non è malaccio, è buono siamo a, a, a 70, a 70 non mi ricordo più, forse a 70 siamo, a 60, a 70, ok c5, che è buono ok, buono sì, ok, se sono 60, che ho fatto 40, di questo qua più 20 60 60 60 70 ancora niente, Cristo Santo 70 ok, lui è questo buono, perché serve per eh, eh, Kafta perché è la seconda arma migliore per Kafta questo qua, quindi buono che ce l'ho già, due copie ho già una, una R3 l'altra R1, o quel genere 80 ho mai so, eh, ho mai garantito, eh ok, vediamo se siamo 80, sono arrivati vediamo se vinciamo il 50%, o perdiamo se perdiamo, voglio ehm, la Healer voglio la Healer ok ok, buono buono, buono Arlan buono C1 Ar- oh, Bailu va bene, va bene che meno una Healer muova buono, buono buono, buono Bailu che mi interessa tantissimo che volevo prenderla con i ticket quelli argentati buono ok, ho trovato Bronia ho messo quelli argentati e lei buono ok, ho perso il 5 vabbè, sono quasi al pity manca, faccio una una cosa faccio una multi più avanti ehm, posto il giorno anche off camera ma prendo garantito ma prendo ok, 0 pity niente, ok uh, nuova arma per, forse ok, forse per ok, Harmony ancora non ho niente 10, 20 ripiti in pratica abbiamo 70 tutto questo va abbiamo 70 arriviamo ok su Sang buono C2 aspettate, aspettate mettiamo così qua non ci prendiamo buono 5 gemini intanto c'ho la storia quindi riesco perché meno male ho tutti da parte un po' di di ticket allora buono lei C2 bam Bailu bella che finalmente Bailu l'ho presa bello questo buono C1 molto bello buono adesso ho trovato i due mostri adesso devo potenziarli i due mostri ce li abbiamo 30 ripiti niente normale ok ok Arlan mi sto spammando come ci fosse domani lui ok va bene poi dammi l'ultima copia di Natasha almeno se lo ci sei no 50 niente ancora ok su Sang va bene 60 se mi sbaglio il conto sono andato a 60 ok Natasha buono la copia no siamo a 50 si 50 60 70 ok ho 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 c3 buono e c6 di Natasha buono 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 e andiamo ad Arlan Arlan c2 buono primo debuff ok su se stesso ok non è malaccio quello è una cosa un po' più lunga però dai dammi 5 stelle garantito tanto abbiamo Blade con 10 multi prima e via buono buono abbiamo un Blade abbiamo un Blade abbiamo preso tutto ho ancora Arlan buono eh però va bene tanto Natasha mi interessa un po' di più l'ho presa praticamente ci sei Arlan dai ho tutta la nuova zona tutte le robe posso farmare un bordello per caso potrei anche shoppare buono che bello doppio 5 stelle eeeh basta questa cosa me la tengo da parte via tanto me fanno più un cazzo adesso io buono figa ho trovato la combo lei vai l'ho trovata che bella bastarda è bellissima loli il figone ce l'abbiamo ho anche sua arma perché ho il suo equipaggiamento perché ho comprato il pass così ho comprato il pass ho preso questa che è la sua terza seconda migliore arma adesso non ricordo più una cosa del genere e gli artefatti dovevo farmarli perché sono quelli nuovi che sono pieni usciti adesso c3 me lo mettiamo ok qui c'è rotto carino e basta c6 si basta ok è lo suo potenziale adesso però vuoi finire prima di altri vuoi finire eeeh andiamo qua tanto qua quanti li ho scusa gli scambiabili adesso prendiamo 100 100 100 però mi dispiace vorrei pieni personaggio però mi servono per 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 capita così me ne scambio perché mi serve per capita quello mi dispiace mi serve per capita così ho 5 ticket in più che ho e via buono buono sono contento che devo fare anche l'evento tutto ancora l'evento devo anche provare il personaggio devo anche provarlo ancora lo proviamo anche adesso perché l'evento non c'è non è ancora uscito ok secondario non è più avanti questo devo farlo ancora devo capirlo ok quello ok e aerta c'è i due uccodin zone vai a provarlo proviamolo velocemente perché non ho ancora provato ok ok qua te lo spiega un po' tutto aspetta non voglio ok se mi capisci c'è una grandissima puttana vai trasformazioni ok buono porco 2 che dio quante cazzo è bello quante cazzo è bello cazzo allora quante cazzo è bello braid fatto bene a pullare ha un bordale di hp dai anche quello devi dargli anche un bordale di hp perché vedi ha bello ehi ehi pistolini bellissimo cazzo dai bellissimo bellissimo adesso meno ho due zone nuove ho un col 50% però ce la faccio questo io ho già fatto tutto ok 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 l'evento penso vorrei prossimi giorni e via quindi niente ragazzoli il nostro pool l'abbiamo fatta il nostro ricerca l'abbiamo fatta l'abbiamo trovato bailu quindi sono contento perché almeno ho un anti healer quindi anche per l'abisso tanto roba che meno c'ho due healer proprio di uno quindi top top anche posso dare ancora di bailu adesso vede forse la sua migliore però adesso vediamo adesso vediamo quale la sua migliore qua cos'è un buono 24% c'ho R5 adesso vediamo me la devo un po' guardare un attimino anche gli artefatti però buono 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 bailu l'ho presa questa qua l'ho trovata diciamo la buffer l'ho trovata le ticchette quelli grigi abbiamo l'attaccante porco due abbiamo l'attaccante bellissimo che bello tipo oro qua che infletta la tuta madonna che figata manca solo cafta perché tiene in braccio la spada va bene è lui bellino lui come ho provato l'evento quello precedente che faceva provare i personaggi tanto roba lui è molto carino mi piace quello cpu però finisco potenziali un po' tutti i miei personaggi con i principali e dopo vado vado su di loro perché quelli equipaggiamenti non ce l'ho ancora però tutti questi qua da occh tutti i potenziali quello e via dopo piano piano comunque c'è anche l'uvo 3 dopo ho potenza l'uvo 3 e basta sono contento ho tolato bailu e quello mamma mia così ragazzoli ci vediamo un prossimo video ciao bellissimo ciao 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 ciao